Ciao e benvenuti all'angolo del focolare. Io sono Valentina, family manager e specialista dell'organizzazione. Qui all'angolo del focolare vi aiuto a semplificare la vostra quotidianità grazie alla semplificazione e all'organizzazione. Oggi voglio darvi 5 idee veloci per semplificare la vostra pausa pranzo. Un'attività che io amo fare la domenica, ci sarà un video apposito, è quella di cucinare tante cose in una volta per permettermi di avere dei pasti pronti, delle cose pronte, degli ingredienti che poi magari andrò ad assemblare per semplificare i pasti durante la settimana, che siano pranzi che mio marito si porta al lavoro o che io lavorando trovo pronti per avere qualcosa di veloce e sano da mangiare durante la settimana. Preparare alcune cose in anticipo ci permette di semplificare tutta la gestione e l'organizzazione dei pasti durante la settimana. Azione numero 1 che vi consiglio di fare quindi è proprio questa. Si chiama batch working in inglese, quindi raggruppare le azioni di lavoro simili. Che cosa vuol dire? Io vi ho fatto l'esempio della domenica in cui magari ho tempo, sono rilassata, mi piace trascorrere del tempo proprio semplificando le azioni della cucina durante la settimana, ma potrebbe essere anche che una sera voi cuciniate e cuciniate un buon piatto in doppia quantità per poter mettere in frigorifero per due o tre giorni dopo o da mettere in freezer per un giorno in cui magari siete in difficoltà. Quindi preparare in grandi quantità in un unico momento vi permette proprio di portarvi avanti per un giorno in cui non avrete tempo. Parlando di ottimizzazione del tempo lasciatemi presentare Padrona del tuo tempo. Padrona del tuo tempo è il mio corso dedicato proprio alla gestione del tempo e alla semplificazione delle azioni quotidiane per vivere in modo più semplice la nostra quotidianità. Non so se vi è mai capitato di correre dietro ai 100 appuntamenti che avete durante la giornata, le tante cose da fare, dover dire di no o continuare a dire di sì e trovarvi con l'agenda piena di attività da fare. Quando io parlo di gestione del tempo e di semplificazione del tempo non è fare una lista di cose da fare, non sono tanti doveri scritti uno dopo l'altro, devo fare questo, devo fare quell'altro, no. È proprio un corso che vi aiuta ad alleggerire la vostra to-do list quotidiana, tutte le cose che avete da fare nella vostra quotidianità e all'interno della settimana riuscire a strutturare una routine settimanale quotidiana che vi permetta di semplificare le vostre abitudini quotidiane. E devo dire che è proprio il primo passo per tutti quelli che vogliono prendere in mano la propria vita e dire ok fermate questo mondo voglio scendere ecco se siete a questo punto iscrivetevi a padrona del tuo tempo ci sono davvero tante video lezioni che possono aiutarvi nella vostra quotidianità. Consiglio numero 2 fate una lista anzi fate diversi tipi di lista. Uno dovete chiedervi che cosa vorrete mangiare quindi andare nel concreto che cosa mangiate concretamente e veramente nella vostra quotidianità. Io nel mio caso ho preparato del farro che ho porzionato in contenitori per il pranzo e messo in frigorifero. In questo modo avevo dei pranzi pronti sia per me che per mio marito che lui potrà mettersi in microonde al lavoro e avere un pranzo caldo mentre io semplicemente mi salto in padella al volo in quei 5 minuti che mi ritaglio di pranzo. Questa volta ho fatto farro un'altra volta potrebbe essere dell'orzo un'altra volta ancora potrebbe essere del riso a seconda delle vostre preferenze quindi grande quantità da andare poi a porzionare. Ho preparato poi tante verdure di diverso genere perché il batch working dice anche proprio questo. Fare cose che richiedono la stessa azione quindi tagliare tagliate tutte le verdure bene lo fate tutto insieme nello stesso momento quindi non è che prima lavate una carota poi lavate un'altra carota a seconda di quello che vi serve no prendete tutte le carote che vi servono e le tagliate tutte nello stesso momento. Ok quindi fate la lista delle cose che dovete fare proprio quindi quello che volete mangiare le cose che dovete fare fate la lista della spesa e infine la lista delle cose che vi servono. Non vorrete mai trovarvi a dover cucinare qualcosa in forno che magari non avete il forno a disposizione o una pentola particolare. Ecco quando stiamo parlando di cose particolari questo vi sconsiglio assolutamente di fare quindi quando stiamo parlando di ottimizzare i tempi non vogliamo andare a fare qualcosa che non sapete fare che non avete mai fatto. Quando parliamo di preparare qualcosa in modo veloce deve essere qualcosa che voi già conoscete e che sapete fare senza richieste di ingredienti particolari o di strumenti particolari. Terzo consiglio ottimizzate i tempi ottimizzate i tempi di cottura ottimizzate i tempi di pulizia e ottimizzate quindi la vostra fatica. In questo modo vi faccio l'esempio delle verdure. Ho tagliato tutte le verdure quelle che avrei utilizzato nel corso di tutta la giornata di tutto il momento di cottura tutte in una volta sia che dovessero andare in forno che avessi poi utilizzato per il ragù. Tutte le verdure poi le ho cotte in un unico metodo ho messo tutto in forno. Mettere tutto in forno mi ha dato la possibilità di utilizzare un solo strumento di sporcare un solo strumento e di cucinare tutto in una sola volta ok ho messo la zucca ho messo il radicchio ho messo le zucchine e le carote tutto in forno e in un unica azione in un unico momento si è cucinato tutto insieme. Quanto veloce quanto comoda è questa azione. Mi ha permesso poi quindi questo di andare a combinare diverse combinazioni quindi di pranzi quindi una volta avremo il farro con la zucca una volta avremo il farro con le zucchine e le carote. Andrò poi a mescolare ad aggiungere a seconda delle voglie della giornata magari del formaggio delle uova o del dei legumi che avrò preparato nella sera precedente. Quindi vedete come si velocizza davvero tantissimo la preparazione dei pranzi per da portarsi al lavoro e anche naturalmente si velocizza tantissimo l'azione della pulizia perché sporcate praticamente una volta sola la cucina per preparare tutte queste verdure in un'unica volta. Andrete naturalmente a consumarle nel giro di tre quattro giorni al massimo e l'ultimo giorno magari della settimana un bel panino e fatto. Quarto consiglio quindi è preparate cose che mangiate davvero. Non ho voluto darvi ricette in questo video proprio perché magari sarebbero le mie ricette sono cose che a voi non piacciono. Cercate di fare cose semplici cose che mangiate nella vostra quotidianità e con metodi di cottura che utilizzate davvero. I nostri metodi di cottura durante l'inverno preferiti sono al forno un po' perché appunto avendo un forno grande posso mettere tante cose diverse in forno e cucinarle contemporaneamente ottimizzando i tempi. Un'altra cosa che mi piace molto fare è cucinare con la istapot. Anche questa mi permette di cucinare al vapore o preparare minestre che poi appunto posso preparare per quella sera e andare a utilizzare durante la settimana o a congelare per un'altra sera in settimana magari in cui sono in difficoltà. Quinto consiglio è ottimizza gli sprechi. Quando stiamo parlando proprio di batch working quindi di lavoro in un'unica azione ci permette di ridurre gli sprechi alimentari perché una volta che avete preso una quantità grande di carote, te le vendono sempre in grandi mazze di carote, riuscite a utilizzarle il più velocemente possibile, il più fresco possibile e trovare utilizzi magari diversi quindi magari con alcune carote farete un ragù, con alcune carote le potete fare al forno o saltate in padella con diverse verdure, con altre carote potrete fare una vellutata di verdure quindi davvero diverse idee per un unico prodotto che però vi vendono tutto insieme e rischiano poi di stare lì ad ammuffire le carote non so quante volte vi sia capitato ma altrettanto sono andata a comprare del prezzemolo per fare il polpettone. Mi hanno dato un mazzo di prezzemolo, cosa mi faccio io di tutto questo mazzo di prezzemolo? Ho dato solamente qualche fogliolina per il polpettone. Bene con il mazzo di prezzemolo ottimizziamo gli sprechi e ho preparato la salsa verde, sono bastati davvero pochissimi ingredienti come adesso non mi ricordo ma deve essere prezzemolo, sale e pepe, acciughe, olio, aceto e forse nient'altro adesso magari qualcuno che si ricorda la ricetta la scriva qui sotto ma è davvero semplice e ti permette di ottimizzare appunto gli sprechi. Ottimizzare gli sprechi anche quando facciamo il ragù. Infatti questa occasione di nuovo non è una cosa che facciamo sempre e è stata proprio quella di preparare il pasticcio. Abbiamo fatto il ragù per il pasticcio ma poi avanzato del ragù quindi abbiamo ottimizzato gli sprechi e abbiamo quindi utilizzato il ragù per dei pasti in settimana. Ci sono dei giorni in cui torna sole a pranzo e quindi ci concediamo un tempo un po' più lungo per il pranzo insieme e avere la pasta al ragù fatto in casa. È tutta un'altra cosa quindi proprio ottimizzare gli sprechi in cucina secondo me è davvero importantissimo e in questo modo si riducono tantissimo anche gli sprechi di energia quando utilizziamo il forno in un'unica volta come dicevo prima per cucinare tante cose contemporaneamente. Ultimo consiglio è il 5 consigli più uno è prepara qualcosa di speciale. In questo caso noi abbiamo preparato la lasagna insieme a mia nonna. Noi qui in Veneto lo chiamiamo pasticcio però insomma ci si capisce. Preparare qualcosa di speciale ti permette di avere qualcosa di speciale durante la settimana che ti va ad illuminare magari un giorno difficile al lavoro. In questo caso abbiamo fatto il pasticcio l'abbiamo fatto in grandi porzioni ma potete farlo anche in porzioni mignon e una volta congelato cotto lo tirate fuori alla mattina lo riscaldate al lavoro e avere il pasticcio pronto per colazione direi che è top. ecco il pasticcio è una di quelle cose il pasticcio la lasagna avete capito che vengono benissimo congelate e scongelate quindi se vi capita di avere voglia una domenica di preparare il pasticcio e porzionarlo in tante diverse monoporzioni vi faciliterete di tantissimo i pranzi da portarvi al lavoro e avrete qualcosa di speciale da mangiare quel giorno. Per me qualcosa di speciale il pasticcio per voi può essere qualcos'altro quindi è un'idea preparate qualcosa di speciale per i vostri pranzi. Bene queste sono le mie cinque idee veloci più una per la pausa pranzo fatemi sapere con un like o un commento qui sotto se vi sono piaciute solo più che altro delle riflessioni per semplificare la preparazione della vostra pausa pranzo. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video se non siete ancora iscritti all'angolo del focolare iscrivetevi è gratuito e noi ci vediamo alla prossima ciao